Gemini puletra, Gemini cavallare, Gemini animale L'acqua armenio è un cinghiale Un toro Questo che è successo? C'è stato dentro mezza bottiglia d'acqua Per me possiamo andare anche a su, subito Però no, troppo carico Brugliere, Brugliere No, Brugliere Un treno Indicale e Brugliere che questo non capisce sennò E' chiamato anche della porta Vanno bene sulla fascia Vanno bene per tirare dritto tipo me ne mette Simon L'Ema 93 sia ancora valido E per me è rivale Oppure può essere uno piantato a terra Non ci ne sei Ho provato, non ti posso dire Se è meglio lui E i comandi audio capisci che non sono fatti C'è gente? Sì sì, tanta gente Ma qua qua? Ah manco lui si è buttato Tanta gente? C'è un problema Aiaiaiai carriamo Perché non so dove è scesa la gente No 10 messaggi Il video è l'ulta di questa torre si riesco Nooo Caccia come prima arma, ok Ok Aiaiai cempa Aiaiai cempa Giamma fa come me Che morto Ehm Woodbushmith qua Eccolo Il casertirlo Più forte del mondo il piccolo casertino quando devo fare 110 da 22 centimetri ho fatto allora hanno afferrato uno all'altro ci ho fatto 110 va bene ma hai fatto tutto tu e troppo fai di 5 euro fa 5 euro ciò che sentiamo che pro player fa colmeni comunque uno distrutto si siamo supporta in tema al solito perché so spettacolo l'abbonamento domani ho già una orciata che ha fatto qualcosa che fa i bei di pan non arriva domani no va bene era scritto e mariava entro 7 anche perché comunque sabato e domenica è giorno di chiusura perché non non perdiscono la roba sono arrivata la felpa a natale eh amen beato te a me non ci terrà mai quella cosa fa perché mia scheda 9 cioè devo dire no però sabato si vado via ci sta pago sta pago più vicino però comunque vado a pigare la gente vicina ci devi da una mano ci devi da sta arrivando in realtà che sono andato da lui dov'è pago via la scheda wilbur smith a will smith a will smith eh cazzo ne so dove sta eh sono qui dentro pago non so davvero ma no ma dov'è ma stanno sopra stanno stanno sopra eccolo sul tetto pago scopato ma ora sto cercando di stia con la mano di testa ma va va scopato ok uh mt mt pago ma cazzo vai sì io vorrei capire che cazzo è successo ho visto tutto tranne di tutto e di più è successo capito niente il centro del mirino accanto ci ho visto che non moriva cosa ho visto ragazzi cosa ho visto ma come lo faccio trovo a fare il medico il medico troppo tu o me lo voglio ok 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 7 un atteggerato per il loser vai tu a arrestare a quelli o vado io 6 vado a arrestare lì aspetta no 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 vai tu vado a arrestare lì io che significa tu che li andavo a arrestare io? come che significa? no no ho sentito no no vai tu e poi dopo hai detto vado a arrestare lì io che significa? perciò non capivo trovavano i cildini lasciato da te si si nemmeno che mi porto io i cildini in realtà hai detto veramente non lo vai tu giusto papo allora non so io che so abbastanza so io che sto ritrovato però lasciagli le cure al compagno si si uno ne ho tieni mangia no no non ti vuole io ho uno ne ho non vuole mangiare vuole romere dicci uno alla mamma no no non lasciare amore no no non è questa la canzone parco no non rovinare tutto era una grande canzone quella che avevo messo io una domanda sola ragazzi qualche colpo? qualcuno me lo può dare? no no un colpo in testa qualche colpo che sarei messi bene tipo fa qua da R colpi qua colpi a R e colpi in pregetto ci avete? vieni si 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 pochi non tutto solo perchè c'erano 40 e 50 ok perfetto grazie che cazzo è successo? cosa sta succedendo? c'è gente? non lo so ho sentito solo spari cavalli e si morto chi è qui stanno? che cazzo ha fatto? no non ho capito c'ho un caccia per adesso no 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 il caccia è uno di pompa uno di voi di pompa che mi sopporto veramente ma perchè Pago si sta avventrando da solo? non l'ho ancora capito ma a parte poi il caccia ho detto con pompa giusto ottimo vabbè però che a Gemani fa male a Gemani ti servono colpi? a Gemani no no serve uno psicologo stasera no vabbè si sinceramente se c'erco più c'è chi non vuoi fare il bombice si serio? se non ho sbaglio dove stavi vendo da te? si no ne ho 48 Gemani ne ho più detto di uno arriva da te una macchina sto scendendo vieni ma ok ci ho detto che scendevo vuoi altri colpi? no eeeh pompa come si è messo? 62 dai c'è una 10 me ne puoi dare qualcuno? si no pure di meno di meno che meno c'è una 62 hai detto giusto? si si ah perfetto ok ecco lasciate una ventina si si hai fatto bene hai fatto bene perchè no sennò di più era non era giusto sennò un po' di più si si tranquillo c'è tutto ok pompa R, mitraglietta e caccia c'ho le trovo un bolt action un po' meglio paco dov'è? là fuori ma più che altro lo chavo da solo la cosa bella è che vado io da solo muoio eeeh per nient'la mi devi capire c'è questo la donna è una cosa delle due me la devo fare no si è mangiato lo squadro si è mangiato lo squadro va bene ma ma mamma beduino aspetta Gemma il modi si stiamo io allora qui qua è una pesca l'ho trovato subito che cosa? il pesce viola vieni addio ma che su qua c'è la roba leggendaria in corpo ma se lo distruggiamo sto squadro ma vieni iscriviamo lo squadro da non sempre Gemma è una roba leggendaria vieni già vabbè no di solito quando indica il giallo non significa che c'è la roba leggendaria dentro ma chi state fai tanto? stiamo sparando lo squadro ah ok lo squadro qua c'è un medico anzi tu riparto io che c'aveva? eeeh va un po' in questo qua l'opportunità torna il dico tu pago? vai fattolo fattolo dove sta il pesce viola pago l'altro pesce viola che diceva pago armenio e ce l'ho io Gemma se tu non vieni eeeh che per caso mi potresti dare che c'ho 3 dati di scudo in meno si vedi e raga abbiamo il danse il ehm ecco c'è una jump? si no non la metto andiamo a penne e qui ce la facciamo come Gemma dove sei? ecco ecco vedete qua la barca con questo qua Gemma no vuoi portare qui? dove state? eccomi Gemma puoi portare i shieldini? eeeh si aspettate andate voi andate voi andate voi Gemma veloce Gemma sto arrivando eeeh ma perchè l'abbiamo pigliata la barca? non ho spavuto da dove? eeeh guardate la cascata che cazzo è un po' eeeh ma vabbè giro per di qua no 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 pensavo ma molti pazzi di scuoli di gioco? eh troppo ci scuolerei giusto per eeeh vabbè un altro un altro scuolo c'era troppa leggendaria diceva però non era questo scendiamo ragazzi che facciamo troppo il bordello? c'abbiamo pure una jumpa qua sopra se la vogliono usare ce ne andiamo in altezza scendiamo no zemma possiamo restare fedeli siete scemi vabbè materiali c'ho 300 di legno 90 di motone e 40 di ferro comunque io ho 3 medkit io su sta jump e me ne vado in qualche parte più alta magari inizio a lotare no a lotare a farmi un po' di materiali qua gatto grill ovviamente sarà già tutto aperto con il nulla più totale giusto? esatto qua ci sono questi 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 che cosa? no dai sta pulito raga qua è ancora chiuso ma vado a farmi io il cambio dai che cosa è chiuso? ci sono delle casse ancora che non sono state aperte eh guarda guarda questo ah no è fuori sè no raga è fuori sè beh si cazzo lascia le perte siamo qui siamo in endgame che cazzo siamo qui la cosa è andata a fiarci dopo guardate animale uscetelo uscetelo no ma c'è anche qua fuori qualcuno vuole cambiarsi qua c'è cosa no no vabbè andiamo dopo la cosa serve una mano penso no più che altro che è stata da sopra no che serve una mano qualcuno necessita di materiali? io volentieri perché sto con 300 di legno basta 300 di legno no in realtà c'ho 280 di legno 130 di ferro e 40 di di no 130 mattone e 40 di ferro scusa eh allora vieni te li do io si si qualcosa non molto giusto per potermi almeno coprire nano allora il gemma ti diciamo ti ho lasciato 200 e 200 ok thank you se ne vuoi altro va benissimo si ma c'è 500 no no tranquillo ferro come stai messo giusto per? 300 vabbè 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 tranquillo tranquillo per il ferro non ci si sa bisogna c'è ne va lascia di perdere se no questi ci facciamo un bordello ci facciamo solo scoprire pago e subiamo solo danno pago pinto pago solo danno dai predoni subiamo che sa? eh ci hanno visto si è proprio quando ci hanno visto no no non ci hanno visto non ci hanno visto invece si l'imbecilla si è fatto vedere niente vabbè andiamo giudando la mano subisce danno vabbè ci stanno anche a cestino non dai niente eh vabbè 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 raga chi è che c'è le spalle io passano sono le splash del predone ok già mandini che cosa grazie c'è già 90 grazie mille però benissimo spago vieni ci facciamo spesso non sono fuori io ho scelto lo scegli no pago più sciogliere quasi 900 per il centro di motore posto ragazzo gioco niente sa gente che si stanno scopando la sopra usiamo l'anno con l'ha fonduta la Giampa per pusharli ma non so quanto sia ci hanno cerchi nato Hanno giampato se ne sono andati da sinistra Giambiamo anche noi Su la montagna sono andati Ci conviene mi sa però Di giampare si Sì giambiamo e andiamoci verso destra però Siamo qua in basso scendiamo rimaniamo qua Non ci credo mi hanno beccato su Adesso stiamo a scherzando Chi ce n'ha dei splash? Io Un attimo parco che Quante ce n'ha i sei? Non ho due Eh no perché ce ne ho 76 Se me le vuoi lanciare Una Perfetto si si sto accendendo Devo fare attenzione però Sì che devo fare? No 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 è possibile Se per te ce n'ha come è impossibile che sta cosa Eeeh Non c'è una questione per me che ti devo dire Sono troppo bello Raga ma non è da qua dietro c'è qualcuno Siamo 4 contro No sono due team diversi ragazzi Comunque Non è un meno male Allora stanno un'altra splash La davanti è arrivata a Pia Io Mi suicido per voi La fuori Mi suicido per voi Mi piace splash Qua con la giusta Saltac blu con le splash Le piglio subito Qua non c'è uno 22 A uno raga Sto con me Se vieni qua stanno Due splash Eh Se te lo puoi prendo Oppure ricordo di che sono qua davanti Non c'è la madonna Vieni qua che ti vedo i shieldini pure Eh vieni geman Geman veloce Dove stai stanno qua Sono qua geman Geman i shieldini Tieni su Vedi sta pushando uno Capo lascia stare Di me Di loro di voi Ok l'ho visto E' sopra di me Mi sono evalendo letteralmente fuoco una mano Eh madonna 22 e 28 col tattico blu 22, 28 e 25 Vabbè ragazzi Fa schifo questo gioco dai Ma guarda caso Qui è morto Quelli sono lì più avanti Eh io mi stavo curando Sono arrivato a più A le cure io Noi non avevamo shieldini Da chiedere vero no? No Ci rivevo le splash Che cure Mi servivano le splash Le shieldini ce l'avevo Per fullarme mi servivano le splash Oh uno l'ha cecchinato Buono A uno di io questo l'ha cecchinato Anzi ma scopato col tonno Questo qua sta giocare Non è scarso questo Fidatevi non è scarso questo nostro Tutto bene andrò? No No Meno male Meno male Eh vabbè Poi mai non è tutto bene Guarda che c'è di che te lo fai Ok l'ha atterrato buono Stai 2b2 L'ha atterrato sopra sotto L'ha atterrato quello sopra L'ha atterrato quello sopra Lo sta pushando Ok 30 bianco ci ha fatto Mi sa Ah no 31 bianco L'ha atterrato Ah qua l'ha atterrato eh Sono pushato A questi due Che li avreste No no Pagano Pagano Non ha corso Ne Ah non è Pagano Ah dietro Non c'è Pagano Non c'è Pagano Quella Ma sai li devi pushando Prima che lo curano Pagano Sta pushando l'amico Che capisci anche il compagno Magari ecco Ha pushato l'amico Ha pushato Anc'anno uccendo Ecco lo sta cura questo Ma quanto Cazzo la gente c'è la 2 2v1 Mi sa sai 2v1 Ok Guardate Pagano Chi è Ciao Ciao Ammate dai Ah non ci credo Si è perso sotto e passato 25 bianco Muore Pagano aperto dall'altro lato 2 vittorie in 2 partite Non ci credo Scella